Buongiorno amici, oggi cominciano i trentesimi giochi olimpici dell'era moderna, a Londra è tutto pronto, stasera la cerimonia inaugurale, qui a circa 2000 km di distanza a Roma noi ci adoperiamo per le nostre Olimpiadi quotidiane. Oggi il menu prevede la Casa Lavoro Casa, che è una riedizione della classica del nord Liegi Baston Liegi, con questa bicicletta che vedete alle mie spalle andremo al lavoro e torneremo a casa e vedremo un po' se Roma è pronta per questo tipo di infrastrutture dedicate ai ciclisti. Grazie a tutti! Eccoci qua! Siamo arrivati, ci si vede a Ritorno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! E dopo circa 16 km eccomi arrivato a casa. Abbiamo visto com'è la situazione per i ciclisti nelle strade di Roma, a Londra imperversano le Olimpiadi, a Roma le Olimpiadi quotidiane nascondono sempre insidie e sorprese. Su 16 km neanche un metro di pista ciclabile, buche, traffico, traffico irregolare, divieti di sosta, parcheggi in doppia fila, insomma pedalare per le strade di Roma non è assolutamente una cosa semplice. Speriamo che le cose cambino. Per il momento è tutto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti!